Tecnologie e precisione per performance uniche. Tutto il giorno, ogni giorno. Phoenix 7 Pro con ricarica solare ed Epix Pro con display AMOLED. Fino a 37 giorni di autonomia con Phoenix 7, grazie alla ricarica solare e fino a 31 giorni con Epix Pro. Non ore, ma settimane di autonomia, brillantezza e luminosità uniche. Grazie al display AMOLED di Epix Pro, disponibile ora in tre misure. Torcia integrata, per accompagnarti anche al buio. Perfetti in ogni condizione. Phoenix 7 Pro ed Epix Pro sono disegnati per l'autore ed equipaggiati con lenti concepite per resistere. Oltre 30 app sportive, tra cui sport di squadra. Heal Score, Endurance Score, mappe, ricezione satellitare, monitoraggio dello stato di salute. 24 ore su 7 giorni e molto altro. È arrivato il momento di scegliere il tuo smartwatch. Phoenix 7 Pro con ricarica energia solare. Epix Pro con brillante display AMOLED. P A Grazie a tutti.